Quando arriva la persona giusta per te, ecco come puoi dare una mano al destino. Allora, quando arriva la persona giusta per te, quando troverai un uomo da amare e dal quale essere amato, una donna, perché vale per il gomino e per le donne, le opportunità e le occasioni ce le possiamo creare e andare a cercare con più o meno forte determinazione. E' anche vero che spesso non ci accorgiamo, diciamo, e andiamo avanti senza dare il giusto credito alla persona e perdiamo dei treni. Dobbiamo imparare a eliminare gli ostacoli, alcuni freni mentali che spesso ci bloccano, alcune paure ataviche, come ad esempio la paura del giudizio degli altri, di sentirsi inadeguati, la paura di essere disestimati, di essere inadeguati, la paura di fare nuove esperienze, insomma la paura di uscire dalla zona di comfort. Questo è fondamentale. Imparare a gestire, diciamo, le nostre emozioni è la cosa fondamentale. La persona giusta, se tu non agisci anche solo come intenzione, non arriva. L'unica cosa da fare è incontrare tante persone, frequentare diversi ambienti, aiutare il destino, diciamo, a fare degli incontri e poi avere la forza e la capacità di capire rapidamente se questa persona è la persona che potrebbe andare bene per te oppure no. E se capisci che c'è qualcosa che non va in questa persona perché è un comportamento per te squilibrato, un comportamento, diciamo, talvolta che può essere ossessivo oppure può essere un comportamento, diciamo, non consono a quelle che sono le tue esigenze, non stare a perdere tempo, soprattutto non coinvolgerti, perché il rischio è proprio andare a coinvolgersi, poi quando incontriamo non la persona giusta ma la persona sbagliata. Quindi le cose da fare sono due, frequentare più ambienti possibili, più luoghi possibili, sia online che offline e poi rapidamente capire se questa persona ti genera turbamento oppure no. Se ti genera turbamento e che senti dentro dei movimenti, dei subbugli, non so, non è innamoramento ma è proprio amplificazione del turbamento, quindi è molto meglio chiudere subito e guardare oltre. Invece la persona che ti dà tranquillità, benessere, gioia e felicità è quella della persona giusta, ma non a sprazzi, proprio costantemente nel tipo di relazione, anche che ti dà fiducia e della quale ti puoi fidare. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok, YouTube Massimo Tramasco, il nuovissimo canale YouTube, esoterismo e spiritualità con Massimo Tramasco, non che gli altri canali, crescita personale, felicità, benessere, ma autostima, sempre con Massimo Tramasco su YouTube. Ciao a tutti!